Una casa isolata e lusosissima, alta su una rupe che strapiomba sul mare. Un prestigioso appartamento a Iperioli, stipato di Augè d'Art, non c'è dubbio, il noto pittore Adamo Gianfranceschi e sua figlia Silvia, manager di alto livello, sanno vivere. Eppure un destino atroce incombe su tutti e due. Ed è in pericolo anche Ippolita, la loro figlia e sorella, che pure non è implicata nelle loro attività, essendo una mite studiosa che lavora al profilo di una giallista italiana degli anni trenta del tutto dimenticata, Ippolita insieme innamoratissima del suo fidanzato e lucidamente coscia delle sue continue contraddizioni. Come mai Brando, un bellissimo ragazzo, è destinato a rivelarsi il bandolo della matassa? E qual è il messaggio occulto celato nel meraviglioso mosaico della dea Albucilla? E cosa più importante di tutti, cos'è l'ametista pallida? Per scoprirlo dovete leggere appunto questo romanzo di Maria Sentini intitolata L'ametista pallida. E di questo romanzo vi leggo un paio di pagine, giusto per farvi assaporare il piacere e della qualità della scrittura di questa autrice Maria Sentini, della quale ho pubblicato in un anno ben sette romanzi gialli. Guarda, cavolo, cavolo! La Porsche Carrera aveva seguito il taxi di Silvia fino al viale dell'Oceano Indiano e poi in via Sabatini, che ne era il proseguimento. All'improvviso il taxi aveva svoltato sulla destra in un piazzaletto privato racchiuso da un grande cancello per i veicoli con relativo cancelletto pedonale a fianco. Quasi senza assoluzione di continuità la donna pedinata uscì dalla vettura e immediatamente aprì il cancelletto con la chiave che doveva aver preparato in mano dopo aver pagato il tassista in anticipo. Il cancello sbaltè, chiudendosi poi senza correre ma con passo veloce, la fuggitiva si aginse a superare l'alto palazzo che svuettava più avanti nel buio. «La perdiamo, cavolo, la perdiamo!» si mise a vociferare il passeggero della Porsche inseguitrice buttandosi fuori dalla macchina, ma intanto la donna aveva girato l'angolo scomparendo effettivamente nel buio ormai calato del tutto. «Devo entrare subito, cavolo, devo!» sbraitò ancora l'inseguitore frustrato. «Adesso scavalco!» «Non sarai, stronzo!» disse flematicamente l'autista, indicando con la mano in direzione del cancelletto. «Non c'è bisogno che fai Tarzan! C'è una che esce!» L'altro aveva visto ed arrivò al cancelletto contemporaneamente ad una graziosa signora che uscìva. Finalmente conscio di dover adoperare l'astuzia, si fece da parte con un vizio di galanteria e l'aria più innocua possibile. Sapeva di fare la sua figura, piacente, all'aspetto ed elegante, come era nel suo cappotto cerruti, blu e abbronzatissimo anche d'inverno. Infatti la signora, uscendo, gli indirizzò un sorriso smagliante mentre tratteneva per lui il cancello con la mano guantata. L'uomo richiuse con carbo, ma subito, smessa ogni finzione, prese la corsa e svoltò velocissimo l'angolo del palazzo, per trovarsi in una situazione che più desolante di così non poteva essere. Al fatto che della donna non ci fosse più traccia era preparato, ma non era quella la cosa più sconvolgente. Il palazzo aveva occultato un cortile così immenso che neppure si poteva chiamare cortile e raccordati al primo dai gradini del pianterreno c'erano altri palazzi disposti a semicerchio, al portone di ognuno dei quali si arrivava tramite una corta rampa di scale. Dalla parte opposta altri edifici si stagliavano nel buio fra alberi e cespugli e altri venerano sullo sogno. L'inseguitore era capitato in una piccola città, deserta per di più, sì perché in quel momento nello spiazzo ben illuminato da artistici lampioni non passava a nessuno mentre le luci vivaci che rischieravano i portori d'ingresso mostravano un'assoluta penuria di esseri umani. Ragioniamo, cavolo, ragioniamo, non è così grave, lei non può essere andata lontano, mi precedeva di pochi metri, quindi o si è nascosta da qualche parte, cavolo, o si è infilata nel palazzo più vicino. Una più attenta osservazione fece tuttavia escludere all'inseguitore la prima ipotesi. Le cancellate dei giardini del pian terreno erano ininterrotte, certo la donna non aveva scavalcato con un volteggio nessuna di esse, c'erano le entrate dei garage, ma ancora una volta, e ragioniamo, cavolo, si disse l'uomo, una entra con la chiave in un posto del genere per poi rifugiarsi in un garage. Sapeva che loro la tallonavano da presso e che se avesse tentato di lasciare il complesso in macchina l'avrebbero subito individuata. No, lei si era infilata all'interno di un palazzo e non poteva essere che quello, il cui ingresso distava pochi metri. Non ce l'avrebbe fatta ad arrivare all'edificio successivo senza che lui la vedesse, cavolo, però quelle non erano le solite palazzine, ma veri e propri palazzi per ricchi. L'inseguitore contò infatti sette piani per ciascuno e magari sotto i tetti c'erano pure gli appartamenti manzardati. E così via, eccetera, eccetera. Siete entrati un po' nella tossera, qui in una tossera di velocità del romanzo giallo di Maria Santini, l'ametista pallida. Resta sempre l'interrogativo che si può svelare leggendo queste pagine. Ma che cos'era? Che cos'è l'ametista pallida? Arrivederci, alla prossima lettura. Grazie a tutti.